Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi parla della determinazione di una madre che ha lottato con tutte le sue forze per ottenere giustizia in una situazione che sembrava senza speranza. Anche nei momenti più bui della sua esistenza non ha ceduto alla disperazione e la sua instancabilità delle battaglie ha portato a un cambiamento significativo nella legge della Gran Bretagna. La sua perseveranza e il suo coraggio hanno dimostrato che è possibile fare la differenza anche nelle circostanze più difficili. È il novembre del 1989 e ci troviamo a Billingham, una cittadina situata nella contia di Durham nel nord-est dell'Inghilterra. Qui abita Julie Hogg, una giovane donna di 22 anni. Nata il 22 febbraio 1967, Julie è figlia di Anne e Charlie Ming, ha un fratello maggiore di nome Gary e una sorella minore, Angela. Julie, suo fratello e sua sorella trascorrono un'infanzia felice. Da bambina Julie è tranquilla e riservata. Sua madre ricorda che tra i tre figli lei era sicuramente quella più timida. È introversa ma ha un piccolo gruppo di amici a cui è molto legata. Si comporta bene e non è mai fonte di preoccupazioni per i suoi genitori, sebbene sua madre Anne ammetta che la situazione cambia leggermente durante l'adolescenza, quando Julie diventa un po' più lunatica. Julie, come vi ho detto, è timida e riservata, ma riesce ad esprimere la sua personalità attraverso i vestiti che indossa. Crea outfit sgargianti e appariscenti, adora i top pieni di paillettes e i tacchi alti. Per un periodo adotta uno stile punk rock e, crescendo, inizia ad apprezzare lo stile di Boy George. Ama i suoi vestiti e ancora creare outfit diversi. Quando esce di casa, Julie cerca sempre di apparire al meglio. È vero, crescendo continua a essere timida, ma con le persone che conosce e di cui si fida si comporta in modo vivace. Julie è anche molto testarda. Se pensa di avere ragione su qualcosa durante una discussione, mantiene la sua posizione. È una giovane molto leale e ha un ottimo senso dell'umorismo. Sua madre afferma che Julie ha una risata contagiosa che scoppia spesso in momenti inappropriati. Julie lascia la scuola superiore a 16 anni e incontra l'uomo che diventerà suo marito, Andrew. Anche lui è di Billingham e i due si incontrano in un club giovanile locale. Tra loro c'è subito sintonia. Così iniziano a frequentarsi nel 1985, quando Julie ha 18 anni e presto si sposano. La famiglia di Julie approva questo matrimonio, adorano Andrew e pensano che sia molto gentile, accomodante e rilassato. La coppia si trasferisce in una casa a Grange Avenue, sempre a Billingham, e un paio di mesi dopo essersi sposati, Julie scopre di essere incinta. Nel 1986 dà alla luce un bambino che decidono di chiamare Kevin. Purtroppo, dopo la sua nascita, la relazione tra Julie e Andrew entra in crisi e i due iniziano a litigare e a discutere frequentemente. La madre di Julie afferma che si comportano male l'uno con l'altro quando non sono d'accordo su qualcosa. Non è una situazione onilaterale, entrambi compiono diverse azioni col solo fine di infastidire e far arrabbiare l'altro. La loro immaturità contribuisce al problema, visto che sono giovani. Come vi ho detto, Julie ha appena 18 anni quando si sposa e rimane incinta, mentre Andrew ha solo un paio d'anni più di lei. Devono adattarsi alla nuova vita da genitori quando loro stessi possono essere considerati a malapena degli adulti. Alla fine iniziano ad allontanarsi l'uno dall'altra fino ad arrivare al punto di decidere di separarsi. Non molto tempo dopo la separazione, nel 1989, Andrew si trasferisce a Londra per lavoro. Londra è piuttosto lontana da Billingham, circa 5 ore. Ma nonostante questo drastico cambio di rotta, Andrew ha intenzione di mantenere dei contatti irregolari con il figlio, Kevin, che a questo punto ha 3 anni. Julie e Andrew hanno in programma di avviare le procedure giudiziarie per una separazione ufficiale. È il pomeriggio del 15 novembre 1989 quando Anne, la madre di Julie, arriva a casa della figlia a Grange Avenue per prendere Kevin. Deve prendersi cura del piccolo per la notte, perché Julie ha un turno di lavoro quella sera. Lavora per una pizzeria locale come Fattorino. Julie chiede a sua madre di telefonarle la mattina successiva per assicurarsi che sia sveglia, dato che ha in programma di andare in tribunale per presentare la domanda di separazione da Andrew e deve essere lì per le 10. Si raccomanda quindi di chiamarla per le 7.30, poi Anne sarebbe andata a prenderla verso le 9 per accompagnarla in tribunale. Anne quella notte porta sua nipote Kevin a casa propria, mentre Julie va a fare il suo turno serale in pizzeria. Quando termina di lavorare nelle prime ore del mattino del 16 novembre, un collega la accompagna a casa. Questo collega ricorda di aver osservato Julie mentre si avvicinava alla porta d'ingresso e inseriva la chiave nella serratura per aprirla. È circa l'1.30 di notte e la ragazza probabilmente va dritta a letto perché sa di doversi alzare presto la mattina successiva. La mattina dopo Anne prende il telefono e inizia a chiamare la figlia alle 7.30 come d'accordi, ma non riceve alcuna risposta. Presume che Julie stia ancora dormendo, ha lavorato fino a tardanotte, quindi probabilmente è molto stanca. Anne aspetta 15 minuti prima di provare a richiamarla, ma anche questa volta non riceve risposta. Decide quindi di mettere Kevin in macchina e di dirigersi a casa di sua figlia. Quando arriva trova la porta d'entrata chiusa a chiave, prova a chiamarla, ma anche in questo caso nessuno risponde. Nota anche che tutte le tende sono tirate, cosa che rafforza ulteriormente l'idea che Julie stia ancora dormendo. Anne non pensa certo al peggio, crede semplicemente che la figlia non si sia ancora svegliata. Così va sul retro della casa e bussa alla porta, ma ancora una volta nessuno le apre. Anne urla il nome di Julie, ma non sente alcun rumore all'interno. Sembra proprio che non ci sia nessuno in casa. Preoccupata, Anne alla fine decide di andare a prendere il fratello maggiore di Julie, Gary, che lavora lì vicino. Inizia a temere che possa essere successo qualcosa di grave a Julie, forse un incidente e un infortunio che le impedisce di aprire la porta e rispondere al telefono. Anne vuole solo che qualcuno la aiuti a entrare nella casa di Julie per assicurarsi che stia bene. Così Gary va a Grangevenue con sua madre e rompe il pannello di vetro vicino alla porta sul retro per entrare. Gary corre subito dentro casa e cerca ovunque la sorella, ma non c'è traccia di Julie e questa situazione è molto strana. Inoltre un fatto che sorprende entrambi è che la casa è insolitamente ordinata. Julie però è una persona piuttosto disordinata, specialmente quando si prepara la mattina. Non è quel tipo di persona che rifà il letto ogni mattina appena si sveglia e, solitamente, lascia in giro ovunque i suoi vestiti e i trucchi. Ma in questo momento è tutto molto pulito e ordinato. Questo è bizzarro, soprattutto perché Julie non è in casa. Se è andata da qualche parte, perché si è preoccupata di riordinare e pulire la casa? E quando ha trovato il tempo di farlo, visto che ha lavorato fino a tardanotte, c'è proprio qualcosa che non va. Quindi Anne decide di contattare la polizia per denunciare la scomparsa della figlia. Tuttavia la polizia non è di grande aiuto, dicono ad Anne che è troppo presto per presentare la denuncia di scomparsa e le consigliano di aspettare ancora un po'. Magari Julie presto sarebbe tornata a casa o si sarebbe messa in contatto con loro. Anne però non vuole aspettare. Non riesce a restare con le mani in mano mentre sua figlia potrebbe essere in pericolo. Così lei e il resto della famiglia iniziano a contattare gli amici di Julie, chiedendo se per caso è con qualcuno di loro. Ma non hanno fortuna. Nessuno l'ha vista. Contatta anche i suoi colleghi della pizzeria e viene a sapere da uno di loro che Julie era tornata a casa la sera precedente. Era circa l'una e mezza e il collega le aveva viste infilare le chiavi della serratura della porta d'ingresso. Ma il fatto che nessuno avesse visto o sentito Julie da allora non sembra preoccupare la polizia. Tanto che un agente era arrivato a dire ad Anne che Julie probabilmente era andata a bere in discoteca al termine del suo turno in pizzeria. Anne però sa che questo comportamento sarebbe assurdo per Julie. Non è solita fare cose del genere e sapeva che doveva alzarsi presto il giorno dopo per l'appuntamento in tribunale. Anne sente dentro di sé che è successo qualcosa a sua figlia. Richiama quindi la polizia ma di nuovo non ottiene alcun risultato. Un altro agente afferma che Julie potrebbe aver deciso di iniziare una nuova vita da qualche parte. Forse a Londra. Non prendono in considerazione il fatto che Julie ha un bambino di tre anni che non l'abbandonerebbe mai e poi mai. Per quattro interi giorni la polizia non fa nulla ma poi fortunatamente e finalmente decide di intervenire. Come prima cosa mandano una squadra forense a perquisire la casa di Julie, il Grange Avenue, l'ultimo posto in cui è stata vista. Se le è successo qualcosa di brutto è molto probabile che sia accaduto lì. Quando la squadra forense inizia la perquisizione la madre di Julie, Anne, chiama il telefono di casa della figlia per chiedere agli agenti presenti e si hanno trovato qualcosa di significativo. L'ufficiale risponde con queste esatte parole. Beh non ci sono cadaveri qui dentro se è questo che intendi. Questa risposta in realtà sconvolge. L'insensibilità della gente la turba parecchio. Onestamente il lavoro svolto dalla polizia all'inizio di questo caso è a dir poco vergognoso. La perquisizione forense si conclude senza trovare nulla che indichi cosa potrebbe essere successo a Julie. Il detective dice non posso garantirti che non sia successo qualcosa a tua figlia nel paese in generale ma ti garantisco che non le è successo niente di male dentro quella casa. Non credono dunque che Julie si sia ferita all'interno della casa. Non hanno trovato segni di lotta o tracce di sangue. Il destino della giovane rimane un mistero. La famiglia fa diversi appelli televisivi chiedendo a chiunque abbia informazioni riguardanti il luogo in cui si trova Julie di farsi avanti. Il suo caso appare sui giornali e la polizia conduce indagini porta a porta interrogando i vicini per scoprire se abbiano visto qualcosa di strano. Ma anche in questo caso non riescono a ottenere nessuna informazione utile. Presto i giorni senza Julie diventano settimane e le settimane diventano mesi. Quando arriva il Natale del 1989 la sua famiglia lo trascorre devastata ancora ignara di cosa le sia successo. La cosa più triste è che la famiglia ha effettivamente comprato dei regali per Julie e li ha messi sotto l'albero di Natale nella speranza che si sarebbe fatta vedere ma di Julie non c'è ancora nessuna traccia. Le indagini della polizia non portano a nulla di concreto purtroppo non emergono nuovi indizi su cui lavorare almeno fino all'inizio del 1990 quando Anne fa una scoperta orribile trovando quello che una madre non dovrebbe mai e poi mai vedere il corpo senza vita di sua figlia. Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio l'ex marito di Julie Andrew decide di andare nella casa che condivideva con lei i Gregg Avenue per pulirla. La casa è rimasta vuota e sigillata per mesi per tutto il periodo in cui la polizia ha portato avanti le indagini per ritrovare Julie. Alla fine di gennaio le chiavi erano state restituite ad Andrew e lui aveva deciso di trasferirsi lì insieme a suo figlio Kevin. Andrew quindi entra in casa per fare le pulizie e sistemare tutto. Accende il riscaldamento centralizzato perché è inverno e fa freddo e mentre lì inizia a sentire un odore orribile proveniente dal bagno al piano superiore. Andrew chiama la mamma di Julie, Anne, per parlarle del problema. Anne presume che l'odore provenga dal water non utilizzato per mesi e gli consiglia di mettere un po' di candeggina nella tazza del gabinetto e di lasciarla agire. Andrew segue il consiglio ma anche dopo un paio di giorni quell'odore nauseabondo persiste. Anzi dirla tutta non fa altro che peggiorare. Anne decide di andare a controllare di persona. Appena entra nella vecchia casa di Julie e sale le scale per raggiungere il bagno. Quell'odore terribile la colpisce immediatamente. Anne lavora come infermiera da dieci anni e riconosce subito quell'odore. Non si tratta di certo di un bagno sporco. Sembra che qualcosa si stia decomponendo al piano di sopra. Mentre apre la porta pensa intensamente ti prego fa che non sia Julie appena entra in bagno. Inizialmente non nota nulla di strano. Inizia a guardarsi intorno controlla dietro al lavandino e al vateri per cercare la fonte di questo odore ma non riesce a trovare nulla. Poi Anne si sporge nella vasca da bagno e inizia ad annusare il muro. Mentre lo fa le sue ginocchia premono contro il pannello della vasca che chiaramente è allentato perché la pressione causa l'apertura di un piccolo spazio. L'odore a questo punto diventa sempre più forte, intenso e travolgente. Questo vuol dire che la fonte di quell'odore proviene chiaramente da sotto la vasca. Anne si inginocchia, tira indietro il pannello e sbircia dentro. Vede un cadavere avvolto in una coperta. Anne ormai lo sa, quella è sua figlia Julie. Anne inizia a urlare, chiama Andrew al piano di sotto dicendogli lei è sotto la vasca, lei è sotto la vasca. Chiamano la polizia che in pochi minuti arriva sulla scena e constata che, come previsto, quello è proprio il corpo di Julie in decomposizione. Il suo corpo, senza vita, è rimasto lì per mesi. Era lì anche quando la polizia ha chiesto alla squadra forense di perquisire la casa, ma non l'hanno trovato. E io mi chiedo, com'è possibile? Anne comprensibilmente decide di sporgere denuncia contro la polizia della contea di Cleveland in Inghilterra, per il modo terribile in cui hanno gestito l'indagine. La famiglia di Julie ottiene circa 10.000 sterline come risarcimento e ad Anne e a suo marito Charlie vengono dati altre 15.000 sterline dall'autorità per il risarcimento delle lesioni penali. Per il disturbo post-traumatico che Anne sta vivendo a causa del ritrovamento del corpo di sua figlia e per la depressione che ha colpito il padre di Julie, Charlie. Quello che era il caso di una persona scomparsa si trasforma in un'indagine per omicidio. Julie è chiaramente stata uccisa, come dimostra il fatto che qualcuno abbia nascosto il suo corpo sotto la vasca sperando che non venisse mai ritrovato. La polizia inizia subito a indagare su uno dei principali sospettati, l'ex marito di Julie, Andrew. Viene portato immediatamente alla stazione di polizia e interrogato, ma alla fine viene escluso dalle indagini dato che risulta chiaramente che non è coinvolto nella morte di Julie. La coperta con cui era avvolto il corpo della giovane viene inviata al laboratorio per degli esami e grazie a questi test vengono trovate delle fibre particolari sulla coperta. Queste fibre sembrano corrispondere a quelle delle magliette da rugby indossate dai giocatori del Billingham Rugby Club, fornendo così agli agenti la prima pista da seguire che li potrebbe portare direttamente all'assassino di Julie, forse qualcuno che gioca rugby o che frequenta il Billingham Rugby Club. La polizia inizia quindi a indagare sui membri del club e identifica immediatamente un gruppo di uomini noti come la banda dei pazzi. Un nome e una garanzia insomma. Vengono chiamati così anche dall'agente del posto a causa delle tipologie di cose che fanno. Sono conosciuti come un gruppo di uomini turbolenti, spesso ubriachi. Molte volte assumono delle spoglie arelliste col fine di farle esibire durante le feste del rugby club. Questo gruppo, l'avrete immaginato, ma non ha una buona reputazione a Billingham. Così la polizia decide di interrogare ogni singolo membro. A seguito degli interrogatori gli uomini vengono tutti esclusi dall'indagine in corso, uno dopo l'altro. Tutti, tranne uno. C'è infatti un membro di questa banda che la polizia non riesce a eliminare dalla lista dei sospettati. Si chiama Billy Dunlop. Billy Dunlop nasce nel marzo del 1963. Ha circa 26 anni al momento dell'omicidio di Julie, quindi circa 4 anni in più di lei. È cresciuto nella contea di Durham in una famiglia piuttosto violenta. Suo padre, quando lui era piccolo, era molto violento fisicamente e spesso ricorreva all'uso della forza per disciplinare i suoi figli. E chiaramente questa aggressività da parte del padre ha influenzato Billy, che ha iniziato a comportarsi nello stesso modo. Billy è cresciuto diventando quindi un ragazzo molto aggressivo e irrascibile e ritrovandosi spesso ad avere problemi con la polizia. Pensate che all'età di 18 anni era stato arrestato per aver preso a calci in faccia un uomo e per aver commesso diverse aggressioni. Quando il caso di Julie era venuto alla luce, Billy si era già costruito una reputazione a dir poco orribile. Era un uomo molto volubile, che si arrabbiava facilmente e che diventava violento all'improvviso se si sentiva provocato in qualche modo. Molte persone a Billingham lo temono e durante le indagini emerge che Billy non erano sconosciuto per Julie Hogg. Non è noto esattamente come si siano incontrati, ma pare che avessero molti amici in comune a Billingham e che quindi i due si comportassero in modo amichevole. Alcune fonti affermano che lui e Julie avessero una storia, altre fonti li definiscono ex fidanzati. In realtà i due non hanno mai avuto una relazione seria, non sono mai usciti insieme con l'intenzione di impegnarsi. La loro è stata una semplice avventura di una notte dopo la separazione tra Julie e Andrew. Sicuramente lei non era interessata a niente di più. Quando lei e Billy avevano iniziato a vedersi, lei in realtà era un po' spaventata, un po' intimorita da lui e mi chiedo se il timore di Julie derivasse dalle voci che aveva sentito in giro per Billingham o se lui le avesse fatto qualcosa. Emerge poi che al momento dell'omicidio di Julie, Billy Dunlop viveva molto, molto vicino alla casa della donna in Grange Avenue. Aveva infatti affittato una camera in una casa nel vicinato di proprietà di un suo amico di nome Don. Ricapitolando, Billy Dunlop è un membro del Billingham Rugby Club, le cui maglie corrispondono alle fibre trovate sulla coperta in cui era avvolto il corpo di Julie. In quel momento abitava molto vicino a casa sua, hanno avuto un'avventura e soprattutto è un individuo molto violento. Tutte queste motivazioni fanno salire rapidamente il ragazzo in cima alla lista dei sospettati. La polizia inizia a ricostruire i movimenti di Billy Dunlop della notte in cui Julie è stata uccisa, per capire se avrebbe avuto l'opportunità e il tempo di portare a termine questo crimine. Scoprono che la sera prima della scomparsa di Julie, il 15 novembre, mentre lei stava lavorando in pizzeria, Billy partecipava a un addio al celibato al club di rugby insieme al resto del gruppo chiamato La Banda di Pazzi. Avevano ingaggiato una spogliarellista e tutti gli uomini stavano bevendo molti alcolici quella sera, compreso Billy ovviamente. Durante la serata, mentre la spogliarellista si esibiva per loro, Billy era salito sul palco e aveva cercato di ottenere un appuntamento per avere un rapporto intimo con lei. Ma questa ragazza non sembrava interessata, anzi sembrava spaventata da Billy. Inoltre quest'ultimo aveva anche litigato con un altro uomo del club. A questo punto alcuni presenti lo avevano buttato fuori e l'avevano costretto ad andarsene. Furioso, Billy, dopo essere stato buttato fuori, aveva addirittura preso a testate la porta del club provocandosi un brutto taglio al sopracciglio che aveva iniziato a sanguinare copiosamente. Per questo motivo, dopo aver lasciato il club, quella sera si era diretto all'ospedale per farsi mettere dei punti al sopracciglio. Billy aveva lasciato l'ospedale intorno all'1.30 del mattino del 16 novembre, quasi contemporaneamente a quando Julie era stata accompagnata a casa dal collega dopo il suo turno di lavoro. La polizia però fatica molto a ricostruire i movimenti di Billy per il resto della nottata, quindi al momento il sospettato non ha un alibi solido. Gli agenti allora decidono di parlare con Don, l'amico con cui Billy alloggiava in quel periodo, e la cui casa era molto, molto vicina al Grange Avenue, dove abitava Julie. Quando la polizia parla per la prima volta con Don, questi afferma che la notte della scomparsa di Julie, Billy era tornato a casa intorno alle 2 ed era andato subito a letto. Tuttavia, quando la polizia parla per una seconda volta con Don, lui cambia la sua versione, ammettendo che in realtà non era stato del tutto sincero al momento della sua prima dichiarazione. Ammette che Billy non era presente in casa alle 2 del mattino e che in effetti non aveva idea di che ora fosse quando Billy era tornato a casa quella notte. Di conseguenza Billy non ha un alibi per il lasso di tempo in cui si ritiene che Julie sia stata uccisa. Ora che gli investigatori sanno che Billy Dunlop avrebbe potuto avere il tempo di commettere questo crimine, la polizia decide di perquisire la casa in cui vive, sperando di trovare delle prove che lo colleghino all'omicidio di Julie. Effettivamente trovano qualcosa, sotto le assi del pavimento della cucina trovano un mazzo di chiavi di casa. Emerge che appartenevano a Julie, chiavi che erano sparite dopo la sua scomparsa e che nessuno era mai riuscito a trovare. E ora è chiaro il perché. Per gli investigatori diventa palese come siano andate le cose. Dopo l'omicidio l'assassino ha portato via le chiavi con sé e queste chiavi sono state ritrovate proprio nella casa presso cui vive Billy Dunlop. Analizzando le chiavi gli investigatori vi trovano anche un paio di impronte digitali di Billy, ma le prove contro di lui non si fermano qui. Oltre alle chiavi e alle impronte digitali gli scienziati trovano anche tracce di seme e alcuni peli sulla coperta in cui era stato avvolto, il corpo di Julie. Quando li confrontano con il DNA di Billy ottengono una corrispondenza parziale. Dovete sapere che nel 1989 la tecnologia non permette ancora di affermare con assoluta certezza che il seme e i peli provengano da lui, ma gli investigatori sono abbastanza sicuri di aver trovato il colpevole. La presenza del seme indica che l'omicidio di Julie ha un movente intimo e il medico legale durante l'autopsia rileva prove di una lesione intima violenta sui genitari di Julie. Quindi la notte della sua morte era stata assalita intimamente dal suo assassino. La causa ufficiale del decesso però è poco chiara perché Julie è stata trovata quasi tre mesi dopo la sua morte e la decomposizione. Ha reso difficile stabilire come fosse stata uccisa. Tuttavia il medico legale ritiene che molto probabilmente sia morta a causa di una sfissia strangolata o soffocata a morte. La polizia dopo aver raccolto queste prove ritiene di poter arrestare e accusare Billy dell'omicidio di Julie. Viene interrogato da un detective tuttavia nega con forza qualsiasi coinvolgimento nella morte di Julie. Quindi è chiaro che il caso andrà a processo. Il processo a carico di Billy Dunlop inizia nel maggio del 1991 circa un anno e mezzo dopo la morte di Julie. L'accusa presenta tutte le prove che collegano Billy al caso ma la difesa risponde affermando che Billy Dunlop è stato incastrato. Sostengono che la polizia abbia piazzato sulla coperta il DNA di Billy per incastrarlo mettendo anche le sue impronte digitali sulle chiavi di Julie e nascondendole nella sua casa. Affermano anche che queste prove dimostrano comunque solo che Billy ha avuto un rapporto intimo con Julie ma questo non significa automaticamente che sia stato lui a ucciderla. La difesa adotta inoltre la tattica di far passare Julie come una giovane donna promiscua e irresponsabile per aver dormito con diversi uomini compreso Billy Dunlop dopo la separazione da suo marito. Anche Billy sale sul banco di testimoni durante il processo continuando a dichiararsi innocente. Afferma che non avrebbe mai e poi mai ucciso Julie e a essere onesti sembra pure molto convincente nonostante tutte le prove raccolte contro di lui. La giuria quando delibera non riesce a raggiungere un verdetto unanime quindi il giudice ordina un nuovo processo con una nuova giuria. Il secondo processo inizia circa cinque mesi dopo il primo nell'ottobre del 1991 e tragicamente ottiene lo stesso risultato. Anche questa nuova giuria non riesce a raggiungere un verdetto unanime e dato che è la seconda volta che una giuria non riesce a prendere una decisione sulla colpevolezza di Billy il giudice del secondo processo decide di assolverlo. Ma c'è un problema ora l'uomo non può più essere processato nuovamente per l'omicidio di Julie a causa del double jeopardy o preclusione dalla doppia incriminazione che impedisce nel Regno Unito di essere giudicati due volte per lo stesso crimine. Più precisamente qualcuno che è stato dichiarato non colpevole o è stato assolto da un crimine non può essere perseguito per lo stesso crimine mai più. Questa legge è in vigore da circa 800 anni in Inghilterra in Galles ed è stata creata per impedire alla polizia di abusare del sistema quando un processo non si conclude con l'esito desiderato. Tra l'altro questa legge ce l'abbiamo anche in Italia. Anche in Italia un imputato se assolto non può essere riprocessato per lo stesso crimine. Ma in questo caso se questa legge non esistesse niente impedirebbe alla polizia di continuare ad accusare e perseguire lo stesso sospettato più e più volte fino ad ottenere un verdetto di colpevolezza. Come immaginerete la famiglia di Julie è a dir poco devastata. Sua madre Anne crolla in aula quando il giudice ordina l'assoluzione e inizia a gridare che quell'uomo ha ucciso sua figlia. È davvero straziante per loro perché sanno che è stato lui a uccidere Julie. Sanno che Billy è colpevole ma è riuscito lo stesso a cavarsela. Dopo l'assoluzione Billy rilascia un'intervista televisiva in cui ribadisce la sua innocenza e dichiara di volere che la polizia riapra il caso per trovare il vero assassino. Tuttavia nel frattempo la famiglia di Julie viene a sapere che Billy si sta vantando di averla fatta franca sostenendo di aver commesso l'omicidio perfetto. Sono passate circa due settimane dalla sua assoluzione. Billy frequenta un pub della zona e si vanta ancora affermando di essere riuscito a sfuggire alla giustizia dopo aver ucciso Julie. È così esaltato da sentirsi invincibile e in effetti può vantarsi quanto vuole. Non sarebbe mai stato condannato per l'omicidio di Julie. Così Billy continua a condurre la sua vita normalmente. La polizia però sa che quella non sarebbe stata l'ultima volta che avrebbero sentito parlare di lui data la sua natura violenta e instabile. Sanno che prima o poi avrebbe commesso un altro crimine e ciò accade nel 1997. Sono passati sei anni dalla sua assoluzione quando Billy viene incarcerato per un paio di mesi con l'accusa di aver minacciato di uccidere la sua ex fidanzata Jane che è anche la madre dei suoi figli. Dopo il suo rilascio dalla prigione Billy si mette insieme a un'altra ragazza di nome Donna. I due però si lasciano poco dopo e la ragazza inizia una relazione con un uomo di nome Sean. Billy è a dir poco furioso con Donna per averlo lasciato per un altro uomo. Così decide di aggredire sia lei che il suo nuovo fidanzato. Si presenta al suo appartamento con una mazza da baseball di legno e la usa per colpire Sean sulla testa con tanta forza da spezzarla. Poi afferra una forchetta e inizia a usarla per pugnalare Donna. Fortunatamente entrambi sopravvivono all'aggressione ma riportano ferite molto gravi tanto che una delle pugnalate ha perforato il polmone di Donna mentre Sean ha subito la rottura di diverse ossa facciali e deve sottoporsi a un intervento di ricostruzione. Sono stati salvati dall'arrivo del fratello di Donna e di alcuni suoi amici che sono entrati nell'appartamento poco dopo l'inizio di questo violento assalto. A seguito di questa orribile aggressione Billy Dunlop viene arrestato e accusato di due capei di imputazione per tentato omicidio. Si dichiara colpevole delle accuse minori di ferimento con l'intento di causare gravi lesioni personali e viene condannato a sette anni di prigione. Mentre dietro le sbarre pensate un po' Billy riesce persino a mandare una lettera a Donna in cui la minaccia dicendo che una volta uscito di prigione le avrebbe fatto la stessa cosa che ha fatto al Julie Hogg. Ancora una volta Billy ha praticamente confessato l'omicidio di Julie ma di nuovo la polizia non può fare nulla a riguardo. Riescono a intercettare la lettera e a leggerla ma non possono usare questa confessione per riaprire il caso di Julie a causa della legge sulla doppia incriminazione. Tuttavia la polizia inizia a valutare la possibilità di poterlo processare per un altro crimine legato alla morte di Julie lo spergiuro. Lo spergiuro è un reato penale che si verifica quando qualcuno mente sotto giuramento come testimone durante un processo. Chiaramente Billy ha commesso questo reato poiché ha testimoniato in entrambi i suoi processi per l'omicidio di Julie dichiarandosi innocente ma ora la polizia può provare che Billy stava mentendo sotto giuramento quindi ha commesso uno spergiuro. Per di più ora quelle di Billy non sono solo parole sapete no? Le parole se le porta via il vento. Ha scritto tutto nero su bianco in questa lettera lo sveglione. Ma non è finita qui ci sono diversi testimoni che l'hanno sentito vantarsi al pub locale su come se l'era cavata commettendo un omicidio perfetto. Se fossero riusciti a ottenere ulteriore ammissione di colpevolezza da parte di Billy Dunlop in persona per quanto riguarda l'omicidio di Julie beh avrebbero potuto processarlo per falsa testimonianza e farlo finire in prigione per un crimine legato all'assassinio. Così i detective escogitano un piano. Scoprono che mentre in prigione per aver tentato di uccidere Donna e Sean Billy Dunlop ha stretto amicizia con un agente carceraria con cui chiacchiera quasi tutti i giorni. Decidono quindi di piazzare un dispositivo di registrazione segreto su questa gente di modo che tutte le conversazioni con l'uomo vengano registrate. Sperano di riuscire a registrare una sua confessione sull'omicidio di Julie. Durante le conversazioni con l'agente di custodia come previsto Billy inizia a parlare di Julie Hogg e ammette di essere il responsabile della sua morte. La polizia finalmente ha ciò che desidera. In seguito a quest'ennesima confessione che hanno registrato decidono di condurre un interrogatorio formale con Billy Dunlop che verrà registrato anch'esso. Gli investigatori gli parlano dei suoi due processi per l'omicidio di Julie e gli chiedono hai detto la verità in entrambi i processi? Billy ammette di non essere stato sincero. Gli chiedono allora se è stato lui a uccidere Julie Hogg e l'uomo confessa affermando che sì era stato lui a uccidere Julie. Spiega che quelle prime ore del 16 novembre 1989 dopo essere stato cacciato al club di rugby e dopo essere uscito dall'ospedale dove si era fatto mettere i punti sul sopracciglio aveva deciso di andare a casa del suo amico che viveva proprio accanto a Julie in Grange Avenue. Billy racconta che quando era arrivato si era reso conto che l'amico stava già dormendo ma aveva notato che invece le luci nella casa di Julie erano ancora accese così aveva deciso di avvicinarsi alla casa e dopo aver visto Julie all'interno aveva bussato alla sua porta. Julie lo aveva fatto entrare e gli aveva preparato una tazza di tè. Secondo quanto racconta Billy lui e Julie stavano solo chiacchierando ma si era arrabbiato parecchio quando Julie aveva iniziato a prenderlo un po' in giro e a ridere di lui per i punti al sopracciglio e l'occhio nero. Julie aveva rincarato la dose dicendogli che l'altra persona coinvolta nella rissa ne era sicuramente uscita meglio di lui dato che Billy aveva un aspetto davvero terribile. Billy afferma che a quel punto aveva perso completamente la testa, si era avventato contro di lei, gli aveva afferrato la gola e l'aveva strangolata a morte. Attenzione, non menziona di averla aggredita intimamente, tuttavia ammette di aver deciso di nascondere il corpo sotto la vasca da bagno. Aveva rimosso il pannello, aveva avvolto il corpo nella coperta e l'aveva posizionato sotto la vasca, poi aveva riavvitato il pannello e aveva preso le chiavi di casa di Julie. Le chiavi le aveva prese perché aveva intenzione di tornare per spostare il cadavere ma poi non ne ha avuto la possibilità, probabilmente a causa dell'attività della polizia scientifica dopo la scomparsa di Julie. Grazie a questa confessione registrata, Billy viene accusato di due capi di imputazione per falsa testimonianza, poiché aveva mentito sotto giuramento in due processi distinti. Si dichiara colpevole e la famiglia di Julie a questo punto spera che Billy ottenga il massimo della pena per falsa testimonianza che equivale a 7 anni, quindi 14 anni consecutivi per i due capi di imputazione, ma alla fine viene condannato a soli 6 anni di prigione. Questo è un ennesimo risultato deludente per i cari di Julie, ma Anne trasforma questa delusione e frustrazione in determinazione. Non avrebbe permesso a quest'uomo di farla franca dopo aver ucciso la sua bellissima bambina, avrebbe fatto tutto il necessario per ottenere giustizia per Julie e sa che per farlo avrebbe dovuto provare a cambiare la legge. Quella legge sulla doppia incriminazione in vigore nel Regno Unito. Anne conclude che se è quello che serve per cambiare le cose, allora si sarebbe prefissata di fare tutto ciò che è in suo potere per cambiare questa legge. Dovete sapere che Anne ha anche scritto un libro su sua figlia e vorrei leggervene una piccola parte. Anne scrive «Una volta che ho avuto il tempo di riprendermi un po' dallo shock del processo, decisi che non avrei mai lasciato che questo intoppo mi impedisse di trovare un modo per assicurare Dunlop dietro le sbarre per scontare una condanna all'ergastolo». Anne sa che va fatto qualcosa di concreto a riguardo, così dà il via una campagna per ottenere il cambiamento di questa legge, contattando chiunque fosse in grado di aiutarla. Si rivolge al ministro degli interni dell'epoca, Jack Strauss, e scrive una lettera alla Commissione Legislativa di Inghilterra e Galles. Contatta chiunque si trovi in una posizione di potere e autorità che possa aiutarla nella sua lotta. Fa del suo meglio per attirare più attenzione possibile da parte dei media sulla sua campagna. Partecipa a diverse interviste televisive e radiofoniche, cercando di ottenere il massimo sostegno dal pubblico. Alla fine riesce a portare la sua campagna fino al Parlamento e alla Camera dei Lord. Partecipa a diversi dibattiti per far comprendere il suo punto di vista e dimostrare perché questa legge deve essere cambiata. Porta avanti questa battaglia per anni interi, non è stato affatto un processo veloce. Anne non si è mai arresa, nonostante le numerose battute d'arresto che ha dovuto affrontare. Nel suo libro entro ovviamente più nel dettaglio, è in inglese, ma vi lascio comunque il link nell'info box se siete interessati a leggerlo. Tutto il duro lavoro di Anne alla fine dai suoi frutti. La legge sulla doppia incriminazione viene modificata nell'aprile del 2006, quasi 17 anni dopo l'omicidio di Julie. Questo vuol dire che questa donna così coraggiosa e caparbia ha lottato con tutte le sue forze per più di dieci anni e mezzo. La legge viene revocata come parte del Criminal Justice Act nel 2003 e questo cambiamento significa che i delinquenti come Billy Dunlop ora possono essere processati nuovamente per crimini per i quali erano stati precedentemente assolti, ma solo se emergono nuove prove convincenti contro di loro, ovvero prove non presenti nelle indagini originale. Fortunatamente viene deciso che questo cambiamento nella legge sarebbe stato retroattivo, il che significa che non si sarebbe applicato solo ai casi di omicidio futuri, ma anche quelli verificatisi prima della modifica della legge. Anne è finalmente sulla buona strada per assicurare l'assassino di sua figlia dietro le sbarre per sempre, dato che quando la legge viene annullata la polizia ha già nuove prove convincenti contro Billy Dunlop. Hanno le sue numerose confessioni nel corso degli anni, ma prima di poterlo riaccusare devono ottenere per prima cosa l'annullamento della sua assoluzione originale. Così nel maggio del 2006 vanno in corte d'appello. L'assoluzione viene immediatamente annullata, il che significa che Billy Dunlop può finalmente essere processato nuovamente per l'omicidio di Julie Hogg. Durante l'udienza di patteggiamento si dichiara ancora una volta non colpevole, ma successivamente lo sveglione decide invece di dichiararsi colpevole. Perché? Perché Billy non è di certo stupido e sa bene che ci sono diverse prove contro di lui, inclusa una confessione registrata. Non c'è la possibilità che la giuria non lo condanni con queste prove. Da qui la decisione di dichiararsi colpevole per tentare di ottenere una pena minore. Nell'ottobre del 2006, quasi 17 anni dopo l'omicidio, Billy viene condannato all'ergassolo con un minimo di 17 anni. È stato il primo uomo in Gran Bretagna ad essere nuovamente processato per lo stesso crimine dopo 800 anni e questo caso ha fatto la storia del Regno Unito. Tutto questo è accaduto solo grazie alla mamma di Julie, Anne. Senza di lei la sua amata figlia non avrebbe mai ottenuto giustizia. Anne dovrebbe essere così orgogliosa di se stessa. Trovo che sia una donna incredibile. Vorrei parlarvi brevemente anche di Kevin, il figlio di Julie. Aveva circa tre anni quando sua madre è stata assassinata e quindi tragicamente non ha alcun ricordo di lei. Ovviamente possiede delle fotografie di sua madre, molte delle quali lo ritraggono da piccolo in braccio a lei. Tuttavia non conserva alcun ricordo nella sua memoria. Era davvero troppo piccolo quando gli è stata portata via. Durante la sua infanzia suo padre Andrew, l'ex marito di Julie, aveva deciso di non rivelargli la verità sulla morte della madre. Insomma non voleva dirgli che era stata uccisa così la famiglia gli ha raccontato che Julie era morta a seguito di un tragico incidente scivolando e battendo la testa dopo essere uscita dalla vasca da bagno. Kevin ha scoperto la verità solo durante l'adolescenza, quando aveva iniziato a sentire delle voci in giro. Gli altri ragazzi lo avvicinavano a scuola e gli dicevano che sua madre non era morta a causa di un incidente, bensì era stata uccisa. Così a questo punto suo padre e il resto della famiglia hanno deciso di comune accordo che era giunto il momento di raccontargli quello che era realmente accaduto. Deve essere stato davvero terribile per lui scoprire la verità dai suoi compagni di classe, ma ritengo perfettamente comprensibile la scelta presa dal padre. Si ipotizza che Billy Dunlop non sia responsabile solo dell'omicidio di Julie, è considerato sospettato anche dell'omicidio di un'altra giovane donna di nome Tina Bell. Tina aveva solo 18 anni nel momento della sua scomparsa il 2 giugno 1989, un paio di mesi dopo l'omicidio di Julie. La ragazza stava campeggiando nel giardino della casa dei suoi genitori a Crescent Avenue a Billingham insieme al fratello minore John. Durante la serata Tina era uscita di casa per andare al negozio locale e comprare dei dolcetti per lei e John, ma non aveva più fatto ritorno. La verità sulla sua scomparsa è rimasto un mistero per più di dieci anni, fino a quando, nell'aprile del 1990, i suoi resti sono stati trovati da due ragazzi che sparavano a dei piattelli d'argilla in una zona desolata non troppo lontana dalla casa di Tina. La polizia era venuta a sapere che una delle ultime persone con cui Tina era stata vista viva non era altri che Billy Dunlop. Era stata vista in un appartamento con lui e un paio di altri uomini che verranno anch'essi considerati come sospettati nel caso di Tina. Nonostante la polizia abbia effettuato un'indagine approfondita, Billy Dunlop non è mai stato collegato in via definitiva all'omicidio di Tina e ancora oggi, dopo più di 35 anni, il caso di Tina rimane irrisolto. Billy Dunlop oggi ha circa 60 anni, la sua pena minima di 17 anni per l'omicidio di Julie è giunta al termine e avrebbe dovuto avere un'udienza per la libertà condizionale nel giugno del 2024. Tuttavia questa udienza è stata rimandata dal Ministero della Giustizia e mentre sto girando questo video deve ancora essere riprogrammata. Se ci saranno delle novità vi terrò aggiornati nei commenti. Arriviamo alle conclusioni. Per quanto mi riguarda il processo contro Billy Dunlop è stato vergognoso perché hanno fatto passare la povera Julie per quello che non era, quasi come se fosse stata lei a essere sotto accusa e non Billy. L'hanno giudicata in modo orribile ma la verità è che Julie era una donna adulta e single ed è assurdo puntare il dito sulle scelte riguardanti la sua vita sessuale come se fossero rilevanti per il brutale omicidio che ha subito. Sembrava quasi che stessero cercando di incolpare Julie per la sua stessa morte suggerendo che se non fosse stata così promiscua e sbandata forse non le sarebbe successo nulla. In pratica stavano dando alla vittima la colpa della sua stessa morte. Questa strategia della difesa, lo dico chiaramente, mi disgusta profondamente. Spero che Billy Dunlop non venga rilasciato così presto. Personalmente ritengo che rappresenti una minaccia troppo grande per la società, per prendere anche solo in considerazione l'idea di farlo uscire di prigione. Tuttavia questa decisione non tocca a me e aggiungerei fortunatamente. Vedremo quindi come si evolveranno le cose, vi terrò informati. È importante ricordare anche il vergognoso lavoro della polizia all'interno di questa indagine. Onestamente ragazzi e ragasse è raro che una squadra forese non trovi un cadavere in una casa. Evidentemente non avevano analizzato la scena del crimine con così tanta attenzione. Un ultimo pensiero va alla mamma di Julie, Anne, che ha subito un trauma enorme trovando il corpo in decomposizione della figlia. Credo sia la peggiore scoperta che una madre possa mai fare. Nonostante questo Anne non ha mai mollato, dimostrandosi forte e combattiva. Ha lottato per anni perché sua figlia ottenesse finalmente la giustizia che meritava. Sebbene non potrà mai riavere indietro Julie, spero che Anne riesca a trovare un briciolo di pace e che sia orgogliosa di se stessa per ciò che è riuscita a fare. Julie sicuramente sarebbe molto fiera e orgogliosa di lei e del suo operato. Grazie a lei non solo Julie ha avuto giustizia ma anche tante altre famiglie che erano nella sua stessa situazione. Da questa storia tragica è emerso qualcosa di positivo. Anne, per quanto mi riguarda, è una fonte di ispirazione e una donna straordinaria. Detto questo io ho finito di parlare in questo video. Ovviamente sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni e a me mi ha fatto emozionare tantissimo questo caso, lo devo ammettere. È un caso come al solito terribile. Tutti i casi che tratto sono molto molto tristi. Ma vedere una madre così forte che non si arrende mai, che lotta per dieci anni di fila è davvero bellissimo. Mi emozionano sempre tanto queste storie. Quando ci sono i genitori che cercano i figli per tantissimo tempo e non si arrendono mai o ancora i genitori cercano di dare giustizia a loro figlio e loro figlia per tantissimo tempo e non si arrendono mai. Sono delle storie bellissime anche se immagino che Anne abbia passato dieci anni molto difficili e molto stressanti. Detto questo io sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni ovviamente sul caso, cosa vi è suscitato questo caso, cosa avete provato durante la visione di questo video. Fatemi sapere quello che avete voglia di condividere insomma qui sotto nei commenti. Io sono sempre curiosa e leggo sempre tutti i vostri commenti. Detto questo io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!